Ciao care amiche io sono Anna, e in questo video ti svelerò alcune anticipazioni della SOP spagnola La Promessa. Non dimenticarti di iscriverti al canale per non perdere i prossimi video e attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento. Dal primo bacio che Yana e Abel si sono dati nel convento di Villalquino, il medico non ha smesso di pensare a lei. Il cuore di Yana, in realtà, appartiene a Manuel, ma sa che la loro storia d'amore è impossibile. Abele non si arrende e continua a lottare per l'amore della fanciulla. Ha deciso di fare un ulteriore passo avanti. Ogni giorno che passa, ogni attimo, mi diventi sempre più indispensabile. Non so come dirtelo, ma penso di essermi innamorato di te, e vorrei che fossi la mia ragazza. Yana si ritrova a un bivio. Manuel è il suo vero amore, ma la differenza di classe impedisce loro di stare insieme. D'altra parte, ad Abel piace, e pensa che potrebbero avere una bella storia d'amore. Dopo averci pensato a lungo, Yana ha preso una decisione. Voglio essere la tua ragazza. Ecco com'è stato questo momento. Dal primo bacio che Yana e Abel si sono dati nel convento di Villalquino, il medico non ha mai smesso di pensare a lei. Nonostante il cuore di Yana appartenga a Manuel, sa che la loro storia d'amore è impossibile a causa della differenza di classe che li separa. Abel non si arrende. La sua dichiarazione è l'atto di amore più coraggioso che abbia mai fatto. Ogni giorno che passa, ogni attimo, mi diventi sempre più indispensabile. Non so come dirtelo, ma penso di essermi innamorato di te, e vorrei che fossi la mia ragazza. La domanda che tormenta Yana è. Combattere per il vero amore o rinunciarvi per essere felici con qualcun altro? Il suo cuore appartiene a Manuel, ma la strada per la felicità sembra passarle davanti con Abel, il quale, con la sua costanza e dolcezza, ha conquistato un posto nel cuore della fanciulla. Dopo averci pensato a lungo, Yana decide di accettare la proposta di Abel. Voglio essere la tua ragazza. Queste parole non segnano solo l'inizio di una relazione. Ma anche il passo verso una nuova fase della sua vita. Dove i sentimenti vengono messi alla prova, e il vero amore dovrà dimostrare di essere all'altezza di ogni sacrificio. In conclusione, la storia d'amore tra Yana e Abel, è una testimonianza di come le circostanze possono complicare i sentimenti. Stare con Abel potrebbe essere il percorso più semplice e gratificante. Ma il cuore di Yana rimane legato a Manuel. Lasciando aperta la domanda. Il vero amore trionferà?